Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici amici di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo. Nel corso di questo mercoledì 7 settembre si prospetta una giornata stabile al sud, nuvolosa al centro, un po' più instabile al nord per effetto di correnti atlantiche che daranno luogo ad acquazzoni e temporali localmente di forte entità tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, tra pomeriggio e sera. Come detto al centro, nubi in aumento, ma saranno nubi medio-alte che non produrranno fenomeni. Queste nubi sorvoleranno anche l'Abruzzo, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, senza portare fenomeni rilevanti. Qualche sprazzo di sole in più lo avremo certamente sulle coste tra la mattina e il pomeriggio. Le temperature in leggero aumento massime tra i 29 e i 31 gradi, minime tra i 16 e i 23 gradi, venti sempre deboli o assenti, prevalente regime di prezza. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.